Questa è la notizia dell'ultima ora. Urban Week sta cercando te. Esattamente, stiamo cercando degli inviati in tutta Italia. Mandateci dei video, fatti anche col vostro cellulare, una discreta risoluzione. Intervistate un cantante famoso, se vi capita sotto mano. Andate nel locale che passa musica dal vivo, che preferite, e mandateci il vostro video. Intervistate un personaggio qualunque. Noi stiamo cercando proprio voi. Mandate questo video alla mail info-urbanweek.it perché potrete essere voi i prossimi inviati dalla nostra trasmissione.